Paura per molti bagnanti nel giorno di Ferragosto nella località di Weston Supermar in Gran Bretagna. Un'improvvisa alta marea ha travolto alcune auto che erano parcheggiate, che sono state così inghiottite dall'acqua del mare. Una scena a dir poco surreale che è stata immortalata sui social dai presenti. In molti purtroppo non sono riusciti a salvare la loro auto dal mare che è stata in pochi istanti inghiottita dall'acqua.